Cosa vuol dire avere un metrometto di stocco e lo ripetono gli occhi e le battute della gente ho la curiosità di una ragazza irrivedente che vi avvicina solo per un studio impertinente vuole scoprirse vero quel che si dice intorno ai nari che siano i più forti della virtù più apparente fra tutte le virtù la più belle c'è Passano gli anni e i mesi esseri curi anche invenuti Triste trovarsi a tutti senza i miei cresciuti La vicenza insiste a te la lingua sul tuo Cosa vuol dire? 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 Fu nelle notti insomma, begnato il ruolo e il raccone, riparai gli esami e diventai procuratore. Per imboccare la strada, che dalle banche più la cattedrale, porta la sacra estima, quindi alla cattedrale o tribunale, giudice finalmente a chi proterrà il bene e il male. Allora la mia statura non dispensare più il buon umore, ma chi ha l'esterno indietro, mi dice che è il vostro amore, e di ammigliare il buon umore, fu un piacere tutto il buon umore, ma non dispensare più il buon umore, ma non dispensare più il buon umore, Ammigliare! Ammigliare!